Il gioco comincia e a un certo punto non c'è più, mentre a luogo e il suo tempo c'è un movimento, un andare su e giù, una corsa sfrenata, una carta da pescare, una pedina da muovere, dei bottoni da schiacciare, c'è il turno, ma quando finisce, cosa resta? Giocato una volta, il gioco abita il ricordo, come una creazione o un tesoro dello spirito e per questo può essere tramandato e ripetuto subito o dopo un lungo intervallo. Grazie.